che è una giusta miscela fra giovani e giocatori esperti di personalità e fra virgolette grandi per cui non ci possiamo lasciare influenzare o condizionare da una negatività dobbiamo perseguire invece la prestazione che è una cosa diversa lo sappiamo, io non vedo differenze, noi non possiamo non giocare con lo stesso accanimento domani, la prossima, la prossima ancora perché dovremmo giocare con più accanimenti grandi? ma ho detto prima, una corsa a tappe, è chiaro che noi siamo in ritardo e dobbiamo recuperare terreno ma a dire che per forza dobbiamo ammazzare domani, non lo so, domani o qualsiasi altra cosa non è così, noi dobbiamo inseguire la prestazione il girone è piccolo, ma io non lo so, adesso ho pure un'idea, ma non vedo squadre che per adesso si stanno staccando è sempre difficile fare paragoni perché siamo all'inizio, quindi credo che ci sarà come sempre grande equilibrio, conterà chi ha la capacità di fare 2, 3, 4 vittorie consecutive, dare continuità ai risultati ma noi siamo un po' indietro, ma io non penso al risultato, penso a far salire di tono la nostra prestazione poi ripeto ancora una volta, se l'ambiente vive tutto estremizzando, noi non siamo estremi si è un po' abituata e pensa che tutto è subito, io l'ho detto già all'inizio, noi non lo pensiamo che tutto è subito ma noi sappiamo che dobbiamo migliorare diverse cose che sono quelle che vi ho detto e sappiamo anche, l'ho detto la settimana scorsa, che abbiamo le qualità anche attraverso il lavoro, la costanza, la motivazione, il gruppo tanti aspetti, tante componenti, per essere passo dopo passo sulla strada del miglioramento e per essere questo il nostro obiettivo, alla fine davanti a tutti